Con il crollo dell'impero romano d'occidente la geografia politica dell'Europa occidentale cambiò in maniera radicale. Dove appena pochi anni prima si estendeva l'autorità dell'impero romano erano nati regni nuovi che gli storici hanno chiamato romano germanici o romano barbarici per indicare la compresenza in essi tra l'elemento romano e quello germanico. Nonostante le differenze tali formazioni territoriali condividono alcune caratteristiche fondamentali. La prima è data dal rapporto numerico tra latini e germani. I latini erano numericamente più consistenti mentre i germani costituivano una minoranza. Si calcola che fossero poche centinaia di migliaia ed erano per di più divisi in diverse tribù. La seconda caratteristica è rappresentata dalle modalità con cui si realizzò la convivenza tra latini e germani. In generale essa non fu semplice perché si trattava di popoli profondamente diversi per cultura e tradizioni. Il processo di integrazione laddove si realizzò fu determinato dalla ricerca di un compromesso in base al quale i dominatori germanici conservavano saldamente nelle proprie mani l'ambito della difesa. I germani erano i soli a portare le armi e a poterle utilizzare in guerra e quello della direzione politica. Ai latini spettava invece il campo dell'amministrazione civile. Un ambito in cui il divario era piuttosto netto, e siamo alla terza caratteristica comune, è quello giuridico. Il diritto romano, che vantava una tradizione antichissima, faceva affidamento su leggi scritte e codificate, mentre quello germanico si basava sulla consuetudine, ossia sulle tradizioni che si trasmettevano oralmente da una generazione all'altra. L'inconciliabilità tra i due sistemi giuridici era accentuata anche da consuetudini germaniche come la faida, ossia la legittimità della vendetta privata, per cui chi subiva un'offesa era autorizzato a farsi giustizia da sé. La faida era guardata con disprezzo dai romani, che la consideravano una forma inaccettabile di giustizia sommaria. Anche qui la soluzione prevalente fu quella del compromesso. La legislazione romana era applicata per i cittadini romani, mentre i germani continuavano a servirsi delle proprie consuetudini. Col tempo, però, i germani si resero conto dei vantaggi che comportava una legislazione scritta, perciò essi iniziarono a codificare le proprie consuetudini, accogliendo diverse norme che derivavano dal diritto romano. Tra questi casi possiamo annoverare il Pactus Legis Salice o Lex Salica, fatto redigere da Clodoveo, re dei franchi nel 503.